almeno una volta all'anno questa cosa bisogna farla no non sto parlando della dichiarazione dei redditi anche perché io evado le tasse come dicevo almeno una volta all'anno dobbiamo risistemare tutta la collezione dei dvd e dei blu ray sia a livello proprio fisico ovvero risistemare dvd nei posti giusti sia riscrivere tutta quanta la nostra lista di dvd quindi benvenuti in tutta la mia collezione di dvd e blu ray in ordine alfabetico questo sarà probabilmente un video abbastanza lungo stiamo parlando di all'incirca 300 e passa film quindi non ci saranno commenti di sorta ma solamente tutti i nomi dei film e un counter messo qui per contarli quindi iniziamo subito numeri e simboli 21 jump street 22 jump street 300 chi dura la vince unrated lettera a a christmas carol aldo giovanni e giacomo unplugged al cinema aldo giovanni e giacomo in potevo rimanere offeso aldo giovanni e giacomo telchi e il terun alice in wonderland amore e altri rimedi ancora auguri per la tua morte angeli e demoni animali fantastici e dove trovarli animali fantastici e i crimini di grindelwald anna caremina annabel auguri per la tua morte lettera b basic instinct 2 benvenuti a zombieland big hero 6 bitch slap le super dotate borat breaking bad tutte quante le stagioni lettera c cambia la tua vita con un click soprattutto mettendo mi piace a questo video cattivissimo me 1 2 e 3 chiedimi se sono felice christmas in love colpo di fulmine il mago della truffa così è la vita cowboy aliens lettera d the cameron pie detective pikachu devil disaster movie questo davvero un disastro district nine dorian gray dracula untold dragon ball super broly il film dragon ball z la resurrezione di f lettera e e io non pago proprio perché io evado le tasse age of tomorrow senza domani edward mani di forbice epic movie unrated lettera f fantasia 2000 fantozi 2000 la clonazione fantozi alla riscossa fantozi il ritorno fantozi in paradiso fantozi subisce ancora ficarra epicone diciamoci la verità final destination 1 2 e 3 fuga da reuma park futurama il gioco di bender lettera g ghost movie ghost rider gli incredibili godzilla lettera h annibal ansel e gretel cacciatori di streghe happy tree friends speciale natalizio harry potter la collezione completa degli otto film high school musical 1 remix high school musical the concert high school musical 2 edizione integrale high school musical 3 edizione integrale per favore non giudicatemi itch lui sì che capisce le donne hook capitano uncino hostel collection hot shot 2 anger games anger games la ragazza di fuoco anger games il canto della rivolta parte 2 lettera i i corti di aldo giovanni e giacomo i fantastici 4 i goonies i griffin stagione 1 2 3 i griffin la storia segreta di stevie griffin i perfetti innamorati i pinguini di madadascar i segreti di brockback mountain i simpson il film il cacciatore di giganti il ciclone il codice da vinci il convento eretics brutto questo film davvero brutto il cosmo sul comò il diavolo veste prada il favoloso mondo di amelie il grande gatsby il miglio verde il mio grasso grosso matrimonio greco 1 e 2 il mistero delle pagine perdute il postino il re leone parentesi questo è stato il mio primissimo dvd nella mia vita perché era insieme alla playstation 2 il ricco il povero e il maggiordomo il segnato il signore degli anelli la compagnia dell'anello il signore degli anelli le due torri il signore degli anelli il ritorno del re il silenzio degli innocenti independence day insidious l'ultima chiave interstellar io sono leggenda high speed altra parentesi questo è il dvd di quando siamo andati a mirabilandia siamo andati su questa giostra molto bella lettera j jack black collection con school of rock super nato e orange country jackass il film jackass the movie se vi chiedete perché ho due copie dello stesso film è perché questa è la versione americana e c'ha 5 ore di extra questa è la versione italiana jackass number 2 jackass 2.5 jackass 3 uncut jackass presenta bad grandpa jumanji deluxe edition e se vi chiedete perché è deluxe non lo so neanche io lettera k kickass coda fratello orso lettera l l'era glaciale 1 2 e 5 non abbiamo trovato il 3 e il 4 l'evocazione the conjuring la banda dei babbi natale la casa dei mille corpi la casa delle bambole ghostland la fabbrica di cioccolato la freccia azzurra la gabbianella il gatto la gang del bosco la leggenda di al john e jack la notte del giudizio la sposa cadavere la strada per el dorado la vita è bella le colline hanno gli occhi 1 e 2 le croniche di narnia 1 e 2 le foglie di cronk leon lo zodi 105 video lettera m mad max fury road maya zombie anche i morti lo fanno maleficent marado napoli man in black 1 2 e international tranquilli il 3 ce l'abbiamo in blu ray mia e leone bianco monsters and co mordimi sempre meglio di twilight moulin rouge lettera n nascosto nel buio natale a miami natale in india necropolis la città dei morti nightmare la collezione completa notte prima degli esami nothing ill now you see me 1 e 2 number 23 lettera o ocean 11 omicidio all'italiana on air storia di un successo one day tra l'altro questo dvd lo detesto perché è al contrario la scritta di one day qualsiasi altro film la scritta è verso l'alto questo ce l'ha verso il basso lettera p pacific rim palle al balzo o meglio conosciuto come dodgeball paranormal activity 2 3 e 4 se vi chiedete perché di questa scelta è perché era dentro un cofanetto con questi tre più il segnato ma paranormal activity 1 no perché cioè tanto valeva davvero mettere il primo paranormal è proprio per farteli comprare a parte pet cemetery pierino colpisce ancora pierino contro tutti pirati dei caraibi la maledizione della prima luna pixels lettera q è anche unico film di questa categoria quel bravo ragazzo lettera r ripd poliziotti dall'aldilà rec regole d'onore ritorno al futuro 1 2 e la platinum edition rocket man lettera s san valentino di sangue so 1 2 3 4 5 6 e legacy scary movie 1 2 3 e 4 serenity l'isola dell'inganno segnali del futuro scubi sherlock sherlock l'abominevole sposa shine sherek sherek ha impegni per venerdì 17 silent night sinister 1 2 e la steelbook dell'uno l'ho preso per sbaglio pensando fosse un blu ray tanto l'ho pagato un euro quindi non è che ci ho perso più di tanto kelly donkey slenderman somnia south park il film più grosso più lungo e tutto intero southbound l'autostrada per l'inferno spider-man spider-man un nuovo universo split stay alive steve jobs suicide squad super hero il più dotato dei supereroi sweeney todd lettera t the abc of death 1 e 2 the big bang theory the box c'è un regalo per te the day after tomorrow the gallows l'esecuzione the hall e the hall si sono due film con lo stesso titolo ma sono due film diversi the last exorcism the mask the night watchman the raven the truman show the visit this is it topolino strepitoso natale totò animali pazzi toy story decimo anniversario tre uomini e una gamba troi tu la conosci claudia tutti pazzi per mary tutto su mia madre lettera u una notte al museo 1 e 2 una pallottola spuntata collection una settimana da dio unfriended lettera v v per vendetta vacanze di natale vacanze di natale 2000 viaggio nell'isola misteriosa lettera w watchman un po di dvd del wrestling ray misterio eddie guerrero john cena battista undertaker chris benoit new year revolution 2005 no way out 2006 backslash 2006 wwe hardcore ed infine dove mi sono fermato wrestling armenia 22 lettera x e anche unico film di questa lettera x files il film lettera y yuppies 1 e 2 yes man yugioh il film e yugioh il film the dark side of dimension lettera z zona d'ombra game brain zoo lander number two due menzioni speciali per i dvd i dvd delle mie due tesine questo del quarto anno e questo della specializzazione sì questo è gta 4 e questo elder scroll 5 avrebbe avuto senso se l'avessi usato in quinta superiore questo sì me l'hanno fatto fare in quinta superiore ovviamente no perché sono dei pezzi di merda ora i blu ray e la cosa sarà molto più veloce tant'è che non li divido neanche in lettera angry games la ragazza con l'uccello di fuoco assassin's creed doctor who dalla 1 alla 11 con il cinquantesimo speciale dylan dog il film final destination 4 e 5 gamer matrix la trilogia man in black 3 miss peregrin e la casa dei ragazzi speciali monsters university ready player one rick e morti stagione 1 ritorno al futuro 3 sausage party shazam sherlock holmes shrooms toy story 2 e 3 ed infine l'ultimo film di tutta la lista è una notte da leoni 1 oh è stato probabilmente un video abbastanza lungo più per me che per voi probabilmente però almeno una volta all'anno questa cosa bisogna farla uno per ricordarmi che film abbiamo e due per aggiornare la lista quindi signori vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti